Appena un dettaglio nella storia del mondo, che in quanto tale andrà eliminato, la definizione di Israele con cui Ahmadinejad guadagna di prepotenza l'attenzione dei riflettori. Sordo agli appelli di Ban Ki-moon a evitare dichiarazioni incendiarie, il presidente iraniano esordisce sulla falsa riga dell'equazione stato ebraico uguale tumore tracciata nel 2005. Altra bordata, quella che poi rivolge a Israele a proposito del nucleare. Sulle testate di un regime mascherato, dice Ahmadinejad, il Consiglio di sicurezza ha scelto il silenzio. A noi vuole invece impedire un uso pacifico del nucleare. Parole che non hanno colto di sorpresa un drappello di manifestanti. In decine, memori delle precedenti dichiarazioni del presidente iraniano sullo causto e 11 settembre, hanno assediato l'hotel che lo ospita per dichiararlo a gran voce persona non grata.